Primi sei mesi in Consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle, rappresentato da Patrizia Manzo e Antonio Federico, che da Termoli hanno fatto partire il loro tour per informare i cittadini attivisti sul lavoro svolto a Palazzo Moffa. Interrogazioni, mozioni, proposte di legge da condividere con i cittadini per aprire un confronto, riduzione dei costi della politica, questione autostrada del Molise, Termoli Jet, progetto Gran Manze, Sanità, sono alcuni dei temi toccati e che hanno aperto un dibattito con i presenti. Sicuramente quelli che sono stati più sentiti dai cittadini è stata la questione della legge sui cosiddetti tagli dei costi della politica, con 17 emendamenti presentati al Movimento, bocciati uno dopo l'altro. C'è stata poi la vicenda della Costituzione parte civile della Regione, del processo Termoli Jet, che nasce da un nostro spunto e da una nostra mozione. Ci sono poi tutta una serie di questioni che sono nell'ombra delle commissioni, dei lavori delle commissioni, le quali stiamo portando forte quelli che sono i proponimenti del nostro programma elettorale e stiamo cercando di dare completa trasparenza e condivisione a certi atti. Sul tavolo della discussione anche i costi della politica con centrodestra e centrosinistra che secondo il Movimento 5 Stelle tendono a mantenere benefit e privilegi e per Federico e Manzo non c'è stata ancora la possibilità di restituire 7 mila euro che considerano in eccesso e che continuano da sei mesi ad accantonare. Noi fino adesso e Antonio abbiamo messo da parte 71 mila euro su un conto cointestato, intestato sia a me che a lui a firma congiunta e faremo il bonifico il più presto possibile sul conto corrente della Regione. Ci volevamo soltanto accertare che venisse effettivamente realizzato il sondaggio portato avanti tra i cittadini. I cittadini hanno scelto di donare quei soldi al microcredito. Noi per adesso li abbiamo depositati su un conto corrente e l'estratto conto sta girando in rete in questi giorni. Faremo il bonifico al più presto sul conto della Regione sperando che la Regione effettivamente indirizzi quei soldi sul microcredito. Illustrata anche un'iniziativa che riguarderà Termoli e che porterà dal 19 ottobre gli attivisti del Movimento ad allestire ogni settimana dei banchetti nei quartieri della città per conoscere i problemi dei residenti.